Aretino dell'anno ma forse non ci darà neanche bisogno di questo diciamo riconoscimento. Siamo dentro al palazzo di Fraternita, vediamo un bel via vai di turisti che insomma vengono ad ammirare questo bellissimo palazzo che proprio per sua intenzione insomma è stato molto più aperto alla città in questo ultimo periodo. È stata la mia prima decisione insieme al magistrato della Fraternita di spalancare i portoni e accogliere i turisti ma anche gli aretini per conoscere questo patrimonio culturale della città. Cosa ci aspetta per questo 2017? In 2017 abbiamo grandi progetti, ci siamo consolidati come magistrato, abbiamo chiuso un bilancio in maniera positiva, abbiamo adesso intenzione di aprire i lavori dell'acquidotto basariano, saranno iniziati a giorni, quindi tutti gli archi saranno ristrutturati dopo diversi centinaia di anni, vanno recuperati, un costo dell'opera è di 350 mila euro, insieme con il comune siamo in grado di fare questo, poi passeremo alla risistemazione della terrazza qui davanti e con la risistemazione anche dei negozi che staranno di sotto e dovremo fare questo lavoro prima della giostra del Saracino, quindi inizieremo forse a marzo e poi abbiamo già dato incarico per recuperare tutti i sotterrani che sono straordinari. Allora lei da Aretino dell'anno, dicono i voti degli aretini e da rettore della Fraternita, che cosa si augura per questo 2017 perché ci lasciamo alle spalle un 2016 molto molto pesante? Innanzitutto un miglioramento di carattere economico, è una città fortemente provata, sta crollando tutto e quando sta crollando tutto quello che emerge è come quando l'acqua scende, emerge quello che i secoli hanno lasciato a noi aretini e le tre istituzioni che costituiscono ancora oggi il perno di questa nostra comunità sono il comune con il sindaco, la chiesa con l'arcivescovo e la Fraternita dei laici dove è transitata l'anima aretina. Vede, nel comune arrivavano i commissari fiorentini, nel vescovo venivano eletti i vescovi sempre dal potere fiorentino, gli aretini hanno sempre mantenuto la Fraternita come l'anima dell'aretinità, cioè qui potevano essere rettori solo coloro che abitavano e risiedevano nella città di Arezzo. Io vorrei continuare questa azione che i miei predecessori hanno fatto perché io sono l'ultimo anello di 753 anni, dopo di me verranno altri, però l'intervento sia sulla tutela sociale, sia sulla tutela culturale e sulla gestione dell'agricoltura costituiscono un po' le linee fondamentali della Fraternita che io vorrei portare avanti anche nel 2017.